Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo alla seconda parte Sono Massassi06 e oggi con la mia maglietta della Juve Che ho sempre parlato di ieri, oggi stiamo sempre alla stessa ora, stesso giorno E stessi... cazzi di Massi e Bulliti E... oggi ragazzi, dopo aver reagito a tutti i miei iscritti Alcuni che... vabbè Oggi reagiremo a tutti i commenti che ci sono stati nel mio canale ragazzi Nel prossimo episodio, non lo so, magari vado a reagire a... All'an... all'analizzazione del mio canale nell'ultimo periodo Analytics, non riesco a parlare, vabbè, shish Andiamo con questa sezione commenti ragazzi Andiamo proprio all'inizio, inizio, inizio, inizio Facciamo così E... Imposto i filtri, come predefiniti, i numeri iscritti, state gli abbonati al canale E... Non li posso invertire Vabbè, questa comunque non è... ah ok, vedi, non è la prima Allora, vediamo un po' dall'inizio Allora, non era questo il primo commento del mio canale Ma come vi ho detto nella... nel... nella parte scorsa Alcuni commenti sono stati eliminati Mi metti un cuore, sei troppo bravo Uno dei miei youtuber preferiti E non so neanche se sei iscritto al mio canale Quindi vabbè Mi saluti nel prossimo video con il nome Zineb Tra l'altro questa era la live su PES dopo ho vinto col Brasile Sono passati tre anni Vabbè ti saluto adesso, ciao Zineb Non so neanche se In questo nuovo mondiale, visto che l'Italia non c'è Ed il Marocco è uscita, tengo al Brasile o Francia? E la Francia ha vinto Puttana vacca Io tenevo al Belgio quell'anno lì Grazie Prego Mi manda i baci Mi saluti? Ciao Hashtag video con Giovanni Martina Guz... Ah, questa è la madre di... Di... Del nemico Giovanni di De Gregorio A parte che stai imitando Favij E con la smart... E la smart non è una muscolcar E comunque fai competitive che ti carriere un po' Ah, questa è Gigiogalbo, ragazzi Nella battuta, non andare di munta Non ho capito, vabbè Abu, Abu, questo è sempre il mio amico Giovanni di De Gregorio Riferito al gol del 4 minuti e 40 Che dribbling Andrea Di Giovanna, mi metti un cuore? Non so chi tu sia, ma ti metto il cuore adesso, grazie Marve Ah, ciao Marve Il mio amico Pietro, dalle medie Grande, grazie Mi sponsorizzi che vorrei fare un po' di iscritti? Ciao BlenderQ Io sponsorizzo chi voglio, soprattutto Gaggizzo Schifido No, vabbè, lasciamo perdere Nabolezzo, hai messo modalità facile Che cazzo ne sai... No, cos'è? Modale con il DGTR? No, lì avevo messo a livello professionista Wow Ehi Massi, grande costruttore Oddio Bellissimo scherzo, è scritto ricambi Ehi, iniziano con i commenti belli Bella zio, leggi i messaggi su Whatsapp Ciao Massi, sono Rumi Ah, Riccardo Rumi Che mi ha acciolato la tipa Electric Gold Se t'andrà la spot al profumo di CR7 Ahahahah Perché ti attivi i commenti a volte? E non è colpa mia, è colpa di YouTube che fa cagare Meglio FIFA, secondo me No, zi Meglio PES Prendi il Kosovo Tu guarda la rosa L'avevo preso il Kosovo, non mi ricordo Are you from Iceland? Kosovo, yes, servia Sur, sur, sur Ah, qua sarà stato uno Bella partita Peccato alla fine che quando sparavi i colpi non rientravano Ragazzi, questo è vero Su Fortnite mi succede anche adesso Non so perché Ma tutte le cazzo di volte non mi entrano i colpi Mood gameplay No, good gameplay Che cazzo leggo Vabbè dai ho GG per te Ti piace che Vabbè Gioca ad Among Us Va bene Che bot Filo Vabbè Brava Marco Bella raga Vi ho messo un like perché sono bravo e C'ho 10 in sede da notarlo Vabbè Tra voi due non si deve Non si deve dire chi è il più forte Ma chi è meno bot Comunque sei simpatico Quindi il like te lo lascio Grazie Ma chi è che il mona che non chiude la porta E non la chiude Orlando Germano Per una volta non ti puoi incazzare perché andava chiusa Grandissimi Sei il mio preferito Ciao Filippo Crippa Oh grandissimo fratello Della team con cui ci provavo Alle media Vabbè Rocket Rocket E lo porterò a Rocket Vai tranquillo Ho fatto un sacco di video Comunque sono platino Il mio tag Ho stobbato il video Nella seconda parte del gameplay Del 1-0 Per analizzarlo Allora Il miglior modo per colpire la palla E prendere la metà Ma l'avversario Non è che la pesa tanto in mezzo Porta di più Rocket League Nella prima partita cerca Al minuto 2 Quando il tizio ha tirato e ha preso palo Anziché tirare per buttarla fuori Potevi tentare un controllo Comunque penso che sei migliorato Sono migliorato Solo che TIG Grande Massi Massi ma dove sei finito Non fai nuovi contenuti Da 5 giorni È lo sobro Ma È l'idee Non ci sono Pubblicità occulta alla Ferrara La mia prof di matematica Vabbè Ferrero 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 Prof Nutella Grandapili Mi dissocio Neko che gioca Fall Guys Banana Arancia Anguria Fracco P5BJ Leggermente cringe Paganventino Dai raga mettete like Che voglio un'altra storia Bravo Bravo Giuse Giuse Così si fa E bravo Neko Ah qua quando mi ha interrotto il video Like sei ottimo gamer Nuovi iscritto Mi fa piacere se passi Ma dai Spassiamo da questo zio Andiamo a vedere un po' Che contenuti fa Minecraft Nuova skin di Iron Man Gamer Fa anche delle Delle Miniature abbastanza carine Nintendo DS The Simpsons Game Bello bro Se stai guardando questo video Il tuo canale ci sta In attesa di revisione Vediamo un po' 0.2.42 Myhotsister.com Vediamo un po' cos'è Taglia 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 0.57 Air 5k in 2 days Andiamo un po' Prima di beccarci un copyright Possiamo smetterla Grazie Amazon Always on video I also make rocket league And maybe we can help each other Out XD I left A like and subscribed E allora perché andrebbe bannato Scusate È un Ci sta come commento Perché dovrebbe essere bannato Possibile spam Bellissimo video Io faccio rocket league E forse Possiamo aiutare Gli altri fuori Non ho capito Non so un cazzo di inglese ragazzi Shish Analytics Andiamo un po' Di analytics Vabbè ragazzi Analytics Andiamo a visitare La prossima volta Ok Vabbè ragazzi Speriamo che il video Vi sia Spero che il video vi sia piaciuto Comunque ragazzi Vi lascio in descrizione Nel canale Lozo Che è il canale nuovo Che abbiamo creato Io e E Nico E vi lascio in descrizione Anche il mio O se no pure Li trovate Qua sotto Che stanno Qua sotto Che stanno per comparire E andate ad iscrivervi Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Non commentate un bel like Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo al prossimo video Qua da Massi Se lo sai è tutto Bella ragazzi